Sua eccellenza, è difficile oggi riuscire, perché sono due cose che vanno insieme, libertà e responsabilità, riuscire ad essere liberi e responsabili per un giornalista? Dipende, dipende. La responsabilità si coniuga con la ricerca del bene. Quando io mi rendo conto che sono libero, ma sono libero di cercare il bene, perché è il bene che produce frutti positivi, anche a volte non immediatamente. Quando già si parte da una posizione non responsabile, non veritiere, chiaramente si va incontro solo a creare confusioni e non il bene. Direttore, Dino Boffo, quanto è difficile oggi fare il giornalista tra questo tema che è oggi il nucleo tra libertà e responsabilità? Oggi fare il giornalista è difficile, ma non è meno difficile fare altre professioni, fare l'operaio, fare il commerciante, fare l'insegnante. Ogni mestiere ha le sue difficoltà, ce l'ha anche il mestiere del giornalista, che ha a che fare con la coscienza di tutti, perché ciò che uno legge, ciò che uno ascolta, più delle volte finisce per immagazzinarlo dentro ed entra in combustione con la propria esistenza, con la propria immaginazione, con la propria fantasia. E dunque la mediazione del giornalista è molto, molto importante. Per quello se ne parla, per questo motivo le diocesi, giustamente come la vostra, promuovono di tanto in tanto incontri come questo, per ricordare ai giornalisti quello che è l'ideale verso cui tendere. Non bisogna, le difficoltà ci sono, le tentazioni anche, i cattivi esempi pure, ma bisogna che noi ci ricordiamo quello che è il punto di arrivo. Conviene anche a noi, conviene anche alla nostra dignità essere libere. Grazie. Grazie.